5, 4 5, 4 8, 9 8, 9 10 11 11 12 12 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 19 20 un uomo, poi abbiamo in sala marco con la lontus preciame, scusate, lontus preciame, con la lontus preciame, scusate, lontus preciame, scusate, lontus preciame, scusate, il plane aperta in questo momento per il primo push-stop, il plane aperta in questo momento per il primo push-stop, entrato da una solver e quella del foreman Cimaretto, per il primo push-stop, il stoppacca e metà per l'aria per una enziket, per questa è la enziket delle leader del giorno al vento, entra a uscita anche la regola di Matteo Cuomo. Il stoppacca anche per la Renault di Morgani, in questo momento al comando la McLaren Margo con il mano al cuore, che fa anche il McLaren 22-2, siamo a 3 minuti di gara, e il primo che si riprenda il mercato, con quel push-stop, per questo che ha detto il stoppacca del posto, con la messa del altro, Ben fatto, mentre rimane con il 52, attivate in questo momento, dai a raggi, con la non scala, il seguito da Santa Marco, tutti i cari non scala di questo, per passare nel distorcio, distorcio proprio adesso per Marco Sazza con la nostra scala. Grazie a tutti. 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 per Marco Sanna con la Lovicamere, quattro Bianchi sulla seconda Lovicamere. Quinto Manciotti sulla terza S, ci mandiamo Morgan con la Renault, Barberi con la seconda Renault, Nuovo Matteo con la Lennon Alice, Decao con la mensilare, Gordani, 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 Vigaare anche dalle tue Lovicamere di Sara e Bialli del Marche San D'Agbare, Gordani, Gordani, Gordani... Sono proprio Adeltese e Mad段 Like, Gordani, Gordani, Gordani e Gordani su Fให lado Gordani, Gordani per sua relazione in ris düribile Takeshi e Raoures, Gordani di Piers, Bikindone e Gordani, Bied natives, Gordani, Gordani è successo... Per esempio il giorno aperto, il 24, vi ricordo che dovete effettuare il secondo boost-off, un minuto e mezzo alla chiusura della pit lane, boost-off dovete rimarrarci. L'attacco di Giorgio ha uscita dalla parabolica, ma l'esercizio il servito, mando le calibre del comando. L'attacco di Giorgio è uscita dalla parabolica, Giorgio e Punti, l'attacco di Giorgio è uscita. Abbiamo dei altri che è spagato il compagno di squadra Marco Tarla con le due noti scammel, 34 posto. Ah, corretto, Marco Tarla che è tampona le due compagno di squadra. Finale la discutere di poste del team, il voto di Schiaff. Il progetto il mezzo, in questo momento a preverso il pomando, ha sbiancato, arriva in parabolica perché è che ha sbiancato, il due sfidere della gara. La esercizio è la metà del mando. quello felanissimo l'apertura della display nel secondo discorso ancora 20 secondi di display l'apertura della display posizioni donno, elche per fuori e clare al marmolo sarra Glianghi, Glianghi, Maggiocchi, Elche, Glianghi, Renau, Getaro e clare al marmolo Barberi, Renau, Cuomo, Egonanze, San Diego, Saura, Dito Pranti, Zota Dolorio, Montiglia, Egoni, Pellari, Stena, Zota i tre, in questo momento i tre, in questo momento e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.